Castelbasso si conferma borgo della cultura, il paese in provincia di Teramo, ospita la manifestazione estiva allestita dalla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture, preseduta da Osvaldo Menegaz, che si protrarrà fino al 30 di agosto. Da oltre 20 anni il luogo di cultura tra i più prestigiosi dell'Abruzzo, Castelbasso riunisce in questo 2020 alcune delle organizzazioni fondamentali abruzzesi, spaziando dalle arti visive alla musica alla letteratura per ribadire un ruolo centrale nella crescita qualitativa dell'offerta culturale. Un chmess che alza l'asticella della qualità dell'offerta culturale e turistica del nostro Abruzzo e in particolar modo rende protagonista le aree interne. Saranno tre le mostre dislocate in due edifici storici, Palazzo De Santis e Palazzo Clemente e nella piazzetta De Santis. Le esposizioni sono a cura di Simone Ciglia e Pietro Cagliano e sono state realizzate grazie all'affermazione dei progetti della Fondazione Italian Council e al premio SIAE. Non mancheranno, come da tradizione, la musica di qualità in collaborazione con la Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo, l'istituzione sinfonica abruzzese e con l'organista Roberto Marini. Poi la letteratura, grazie al rapporto con il FLA, il Festival di Libri e altre cose di Pescara.